Prosegue e si rinnova la collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona, Pesero Urbino e Comuni di Acqualagna per la Fiera Nazionale del Tartufo. L'obiettivo è quello di sostenere l'evento e quindi sia il comparto del tartufo sia il settore ristorativo e turistico ricettivo per il rilancio dell'economia. Domenica scorsa durante la cerimonia inaugurale il segretario Marco Pierpaoli è salito sul palco a nome dell'associazione di categoria per premiare alcune aziende del territorio. Oggi abbiamo un segnale positivo, un inizio di ripartenza di una pseudonormalità. Confartigianato da 2016 è presente a questa iniziativa di valenza nazionale che giudichiamo veramente bene nella logica di promuovere il nostro territorio. Crediamo che vadano valorizzate le imprese e qua da Colagna abbiamo delle eccellenze di livello internazionale quindi l'idea è quella di far conoscere il nostro territorio, le nostre eccellenze, la contaminazione quindi anche con l'artigianato e quindi questa è l'occasione di premiare quattro realtà che si sono distinte in questa pandemia non solo nel saper presagire il cambiamento in tempi veloci ma soprattutto sapendo sfruttare una risorsa, quella del tartufo, abbinandola alla trasformazione ma anche alla somministrazione. Quindi un'innovazione è quello che noi chiediamo alle imprese e sono un buon esempio anche per tutte le nostre imprese associate. Dopo l'inaugurazione della fiera è seguito un altro taglio del nastro, quello dello spazio espositivo di Confartigianato per la promozione degli artigiani del circuito della Via Maestra. Tra i driver c'è assolutamente l'artigianato artistico che oggi presentiamo nel nostro stand espositivo La Via Maestra che è un progetto intersettoriale cioè si articola sia nell'aspetti digital perché abbiamo il portale La Via Maestra, un portale web per presentare sia l'artigianato artistico ed enogastronomico come altra eccellenza ovviamente del nostro territorio e l'altra articolazione del progetto La Via Maestra è un'articolazione di carattere fisico perché abbiamo un emporium La Via Maestra che è un negozio sostanzialmente, un presidio fisico dove noi proponiamo tutte le eccellenze. Qui abbiamo una rappresentanza di quelle che sono le peculiarità del nostro artigianato artistico di Ancona, Pesar Urbino e della Regione Marche e quindi vogliamo dare ampio spazio a questo tipo di eccellenze e anche alle maestranze che stanno dietro ai prodotti perché i prodotti molto spesso calcano l'anima di chi poi si occupa della loro produzione sia con la mente che con le mani che con il cuore. Questa è la passione dell'artigianato che noi vogliamo proporre al pubblico e ai turisti che ci vengono a trovare qua a Pesaro e nella provincia di Pesar Urbino e Ancona.